La nostra ospita di oggi. Buongiorno a Valeria De Paoli. Buongiorno, buongiorno a Valeria. Scusate, non avevo aperto il microfono, scusami. Cominciamo bene. Forse dovrei avere bisogno di qualcuno che mi insegna a fare i podcast. Possiamo provarci, ma in realtà non ho detto. Perché dico questo? Perché Valeria De Paoli, che fa parte del gruppo Novate Podcast Lab, e viene qua oggi a raccontarci una cosa che ho visto qualche giorno fa, navigando sulla rete, che è Notiziate. Un podcast che dà notizie solo dei paesi nate. Solo dei paesi che finiscono nate. Se non finisce nate, no, non lo diamo. Stiamo parlando di quanti comuni in Italia? Ci sono 134 comuni in Italia, sparsi un po' ovunque. Questa cosa mi dicevi proprio forno, sparsi praticamente ovunque. Io pensavo fossero tutti, zona Brianza. La maggior parte sono in Lombardia, però ci sono anche in Piemonte, in Sardegna, ci sono anche in Puglia, in Calabria, ce ne sono in tutta Italia. Avete fatto il censimento? Sì, abbiamo la lista ISTAT dei comuni e abbiamo, diciamo, selezionato i gruppi comuni nate. Poi quelli ufficiali. Il tratto per finale nate. Poi ci sono tutti anche i quartieri, quartieri di altre città che finiscono nate. Ah, beh. Quindi ce ne sono altre tanti. Voi nella vostra zona invece ne coprite più o meno dieci, no? Sì, una decina. Noi siamo di novate, e quindi nasce da lì, no? C'è le notizie di novate di tutti gli ate vicini. Bollate, baranzate, cesate, limbiate, garmagnate. E potremmo andare avanti all'infinito. Come vi lascia l'idea di fare un podcast che racconta le notizie su qualche notizie date? Allora, il podcast è ovviamente su notizie tra il serio e il faceto, quindi per dare un po' di leggerezza, diciamo che ci sono altri notiziari che danno le notizie di cronaca, eccetera. Quindi noi diamo un po' di notizie un po' tra il serio e il faceto più faceto, diciamo così. E niente, praticamente ogni settimana facciamo un po' di rassegna stampa, perché ci sono dei notiziari locali, per esempio il notiziario, ma sette giorni, ma anche le pagine Facebook, quelle sei di novate. e raccogliamo un po' di notizie che sono per lo più... Abbiamo le rubriche, eh? La metropolitana, il pompiere sotto l'albero. Il pompiere sotto l'albero? Sì, praticamente ci sono un sacco di notizie in cui i pompieri poverini devono fare degli interventi che sono interventi che in realtà sarebbe meglio non chiamare i pompieri. Ok, che non si farti da sola, ma invece... Sì, praticamente magari sei sullo sciacquone con la musica, non senti, la gente si preoccupa, chiama i pompieri, arrivano e tu sei lì. E ti trovano lì sullo sciacquone che stai cantando, che stai cantando, fa squarciaggolo a Celentano, ecco. Sulla scala, arrivano nella finestra e c'è... E come dici, in questi casi non è l'ercio, cioè in questo caso è tutto vero, perché le notizie che date sono tutte vere e confermate. Sì, tutte da notiziali, da giornali, sì, sì, è una segna stampa. Poi noi commentiamo ovviamente, ma abbiamo anche una parte meteo con un nerd meteorologo. Con il meteorino? Sì, sì, un meteorologo serio, si chiama Dottor Brambilla, che è un po' un nerd della meteorologia e tutte le settimane ci dà il suo... insomma, nel meteo della settimana e poi diamo anche gli eventi. L'unica cosa seria sono gli eventi alla fine. Ah, ok. Eventi sempre della vostra zona? Sì, sempre gli ate. Vi collegate anche appunto con altri ate invece sparsi per il globo? Allora, ogni tanto chiediamo, abbiamo fatto un contest, abbiamo chiesto a chi viaggiava negli ate, promuoviamo un po' di ate nell'Italia, perché ce ne sono di belli che hanno i laghi, eccetera. E' così che avete, oltre al censimento, anche proprio la conoscenza reale dei variate. Continuiamo a parlare del Notiziate e del Novate Podcast Lab, subito dopo la prossima canzone. Liga Bue con certe notti alle 8 e 37 minuti di nuovo qui in diretta su Good Morning Milano, che potrebbe essere certe mattine, anzi spero che siano tutte le mattine in vostra compagnia. 331-78-53-555 è il nostro numero di Whatsapp. Grazie Alberto che ci manda sempre un bel Whatsapp di incoraggiamento per iniziare bene la giornata. Grazie Alberto, anche a te buon lavoro. Torniamo a parlare invece con la nostra ospite di oggi, che è Valeria De Paoli. Parliamo di podcast, parliamo di Notiziate, il podcast delle notizie dei comuni nate. Nasce appunto a Novate e parla, diciamo, di quella zona lì. Ma nasce a Novate non solo perché finisci nate, perché se eravate in un altro comune, se eravate a settimo milanese, diventava notiziese, tutti quelli che finiscono in milanese. E invece nasce a Novate anche per un altro motivo, perché esiste il Novate Podcast Lab. Sì, è un gruppo di podcaster, possiamo dire così, di appassionati di podcast, che è nato su iniziativa del Circolo Sempre Avanti a Giroiraghi, che è un circolo storico che è a Novate, è stato fondato nel 1907, pensa. Quindi più di cent'anni fa, infatti è riconosciuto anche come circolo storico della regione. E questo circolo, insomma, che fa attività socioculturali, da un po' di anni ha, diciamo, aperto, sai quei circoli che per tanto tempo si sono un po' invecchiati, erano un po' invecchiati. Invece è aperto un po' da una decina d'anni anche a persone un po' più giovani, eccetera. È stato fatto tutto un percorso di intergenerazione culturale. E all'interno di tutto un percorso, diciamo, strategico del Circolo, è stato pensato di aprire una specie di radio. Adesso noi la chiamiamo radio anche perché appunto per parlare di podcast con alcuni fruitori è difficile. Quindi noi chiamiamo la radio, la radio del Circolo, il canale radio del Circolo. E niente, quindi il Circolo ha aperto una saletta proprio di piccolina, fatta un po' amatorialmente, dove poter registrare è aperta la cittadinanza in realtà. Quindi se uno vuole fare il podcast, eccetera. È stato lanciato, cioè è stato praticamente promosso un corso di formazione, proprio gratuito, aperto alla cittadinanza, che ha creato, da qui è partito questo gruppo poi, perché le persone che si sono formate lì, alcune, hanno deciso di fare una redazione e di fare un vero e proprio gruppo podcast che si chiama Novate Podcast Lab, tra il 2019 e il 2020. Quindi Notiziate è una delle produzioni di questo gruppo. Sì, sì, sì. Vi abbiamo fatto citarne altre a questo punto, per non fare torto a nessuno. Solo alcune, perché sennò poi sappiamo che ci dimenticheremo qualcuno. No, oppure riusciamo a dirle tutte. Ma allora non sono tantissime, però c'è Scemo Chi Legge, che in realtà vuole essere un podcast serio, ci sono praticamente ogni puntata, viene intervistata uno scrittore e una scrittrice. Però appunto in realtà si chiama Scemo Chi Legge, perché non è il mio podcast, è il podcast di un'altra persona del gruppo, ovviamente, e per non diventare scemi tra mille libri, insomma, con tutti i libri cosa dobbiamo scegliere. Quindi questo è un po' l'obiettivo del podcast, di imparare a scegliere cosa leggere. Poi c'è gente straordinariamente a caso, che invece sono interviste di persone a caso di Novate. Ah, ok, cos'è? Così, cioè, solo perché abitano a Novate. Hanno un diritto di essere intervistate. L'idea è parte dal dialogo, insomma, dalla capacità. Diciamo che il gruppo podcast è anche stato promosso, perché in questa epoca di comunicazione mediata, dal video, eccetera, in realtà è sempre più difficile sapere ascoltare. Invece il podcast ti obbliga ad ascoltare, come la radio, no? E quindi abbiamo deciso di promuovere questo. E in quest'ottica, pensando che ogni storia ha qualcosa di straordinario, abbiamo fatto questo podcast. Abbiamo raccolto una trentina di storie già di Novate. Ah, no. Novate, gente a caso, si chiama. Gente stranamente a caso. Gente stranamente a caso, ok. E poi, niente, c'è anche un programma molto carino che si chiama I Frichini, la voce dei bambini. Frichini. Sì, perché apriamo ogni tanto la saletta. Frichini è, vuol dire, bambino, tipo marchigiano, qualcosa del genere. Ah, come mai a Novate arriva un marchigiano a dire, uè, Frichini! Perché uno del gruppo podcast ha origini marchigiane, e quindi ci ha dato questo nome bello, carino. E l'abbiamo chiamato così. E praticamente era un tavolo come io e te oggi, però fatto con bambini tra i 4-5 e si, si, molto piccoli, fino a massimo 10 anni. Ok. E decidono loro l'argomento e si parla dell'argomento. Così? Poi abbiamo promosso anche nelle scuole, nelle scuole elementari, e abbiamo fatto tutta una serie di puntate in cui ogni classe che partecipava gratuitamente, sempre noi siamo ovviamente volontari, amatori, proponeva il suo argomento e lo preparavano. Ed è stato molto interessante perché abbiamo visto che aiuta anche, per esempio, bambine e bambine che hanno magari problemi di dislessia, eccetera, e sono molto contenti perché poi, vabbè, noi ovviamente montiamo e tagliamo, ma riascoltando si aiuta proprio anche a sapersi ascoltare, a imparare a, insomma, a rigestirsi meglio la parola, no? Ed è stato molto apprezzato ed è molto apprezzato, si divertono un mondo i bambini. E poi non è facile spiegare solo a parole, perché adesso sono abituati a guardare. E infatti. E infatti. Fanno un esercizio molto complicato per molti di loro. Ed è molto interessante perché ci piace un sacco, quindi è molto bello. Quindi noi i bambini mi hanno capito che insomma li avete accalapiati e sono i vostri fan numero uno, ma il resto della città come e quando si appassiona ai nuovi di Novate Podcast Lab? Allora facciamo delle giornate aperte al circolo e poi adesso vogliamo aprire anche la diretta, la diretta degli eventi del circolo. Stiamo provando a registrare in diretta e abbiamo fatto una serie di feste e tutte le volte, diciamo, le volte in cui il circolo sempre avanti fa delle iniziative promuoviamo anche sia i canali podcast che ovviamente facciamo anche proprio la radio come se fosse in diretta, ma che siamo lì, non è che registra. Ci sentono, ci vedono, poi è carino, insomma, diciamo questo un po'. Siete quindi la voce appunto del circolo e non solo, questa voce appunto esce, nasce appunto come voce del circolo, ma poi in realtà esce appunto dalle mura del circolo senza problemi, grazie appunto al novate Podcast Lab. Ancora una canzone, poi voglio capire bene invece come la strutturate questo, invece notiziate, perché io sono curiosissimo di sapere altre notizie. Poi le rubriche, come è quella del pompiere? Il pompiere sotto l'alto. Quella di mi piace, adesso me la andrò a ascoltare. Intanto i Comacose con Chiamami. Chiamami, Comacose, 8 e 47 minuti, Crystal Radio, giovedì 31 ottobre, vi ricordo questo giovedì che sa di venerdì, domani ponte, festa, dove andate, cosa farete, lo potrete decidere anche guardando un po' quello che nelle prossime ore, anche durante K-Day, durante le vostre intermissioni, vi daranno sicuramente un po' di appuntamenti per questo lungo weekend. Se vi mettete in macchina e state andando da qualche parte dove Crystal Radio non arriva, potete anche ascoltare Crystal Radio per qualche minuto per ascoltare tranquillamente i podcast appunto del novate Podcast Lab, come ad esempio Notiziate. magari vi andate, avete deciso di andare a Brunate, allora vi ascoltate e notiziate, no? Eh, infatti, o Bonate sotto, Bonate sopra. Bonate sopra, forse è meglio Brunate, perché Bonate sopra e Bonate sotto per andare a fare il weekend. Insomma, sempre, non lo so, o Arconate, andate ad Arconate, un bel buissimo weekend ad Arconate, un saluto agli amici di Arconate. Comunque, notiziate che nasce dalle sfavillanti menti di... Di Vale e Vale, le due Vale. Ah, le due Vale. Sì, sì, in realtà non sono da sola, c'è anche Vale che per oggi, insomma, fa la prof, quindi non poteva essere qua. Ma è quella che lavora davvero. È quella che lavora davvero. Sì, Valentina e Maffredini, anche lei, insomma, l'abbiamo inventato in due, siamo in due, insomma, funziona bene insieme. Diciamo, tutte notizie che prendete dai giornali, ma che la gente... Pensa che non sia... Ogni tanto ci dice, ma l'avete inventato voi, no, non abbiamo inventato niente, prendiamo notizie effettivamente vere, solo che siccome selezioniamo capillarmente notizie particolari, ovviamente sembra un po'... La realtà sopra sempre l'immaginazione in questi casi, no? Sì, sì, è vero, è vero. Per esempio abbiamo la rubrica Mistero. Mistero? Sì, la rubrica Mistero, per esempio, ha ospiate di bollate, che vedi, in un quartiere anche in Ate. Doppiate, quindi. Doppiate, quindi è incredibile. Ci sono un sacco di... Succedono un sacco di misteri, quindi lungo le puntate potrete trovare vari misteri, non so, oggetti volanti, piuttosto che persone che fanno cose, o luci che arrivano sulla strada, e quindi uno si ferma in mezzo alla strada, cioè c'è tutto un racconto, dove c'è anche la strada della testa di cavallo che non abbiamo ancora scoperto e che chiediamo... Che hanno detto che c'era quest'altro mistero. Cioè, per esempio, tutti i misteri succedono a ospiate. A ospiate di bollate. Sì, a ospiate di bollate. Tutto lì, tutto lì. E' interessante appunto che quindi è una sequenza di storie, è una serie diventa tutti gli effetti, cioè Netflix scansateve, cioè questo, giusto? Sì, abbiamo fatto un sacco di puntate ormai e volevamo farne anche una tutta in Ate, no? Le puntate in estate. Ate. Ah, cavolo, perché c'è proprio... È una malattia la vostra a questo punto. Cioè, diciamocelo. Cioè, ormai voi... Sai come è la numerologia, no? Che vedi numeri ovunque. Voi vedete Ate ovunque. Sì, giuro. Infatti, vabbè, no, ci divertiamo molto. Facciamo come naturalmente ci divertiamo. Dove lo ascoltiamo e quando possiamo ascoltarlo? Allora, usciamo, diciamo, registriamo tutti i weekend. Spero tutti, in realtà non proprio tutti, ogni tanto non ce la facciamo, però in realtà tutti i weekend, quindi esce tra domenica e lunedì, un po' a caso, però tutte le settimane e lo possiamo ascoltare sia su Spotify che su Spreaker che, vabbè, anche su YouTube, sul canale. Cercando notiziate circolo sempre avanti. Ok, cioè avete dei profili social dove seguirvi? Abbiamo anche Facebook di Novate Podcast Lab e Instagram di Novate Podcast Lab. E lì ogni volta che pubblicate viene data la notizia? Sì, e viene dato anche il link della puntata. Ogni puntata ha la notizia del giorno, della settimana. È interessante. e ricordo che poi c'è anche il dottor Brambilla. È, 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 il meteorologo, giusto? Meteorologo. Ok, come avete fatto a convincerlo? Cos'è gli avete rubato una figlia e ha detto poi alla fine te la ridaremo indietro? Faceva il meteo sulla pagina di 6 di Novate Milano di Testia. Allora gli ho scritto, gli ho detto ma non ti va di fare il meteo veramente in questo podcast che bisogna fare? E lui è preso benissimo, è veramente un nerd, cioè è appassionatissimo, ci spiega tutto, no? Che cos'è il Graupel, che cos'è il fenomeno meteorologico. Sì, meteorologici e quindi... Dottor Brambilla. Dottor Brambilla. Mi viene voglia di rubarvelo, te lo dico. C'è anche un canale pod, lui ha un canale WhatsApp, ma io te lo consiglio Mi viene voglia di rubarvelo, perché se il radio DJ ha il famoso bagnino che fa il meteo, io non posso non avere il Brambilla che mi fa il meteo. Te lo consiglio, è super bravo, è super competente, e poi vabbè, l'ha presa bene di partecipare, l'unico appunto punto serio è lui e gli eventi, no? Però ci dà sempre i consigli su come vestirci, se portarlo un bello o no, certo. Fondamentale. Allora il Dottor Brambilla lo ascolteremo sicuramente all'interno di notiziate, che diciamo appunto esce praticamente più o meno nel weekend, a inizio settimana. Facciamo così, martedì mattina, quando vi svegliate cercatelo, che siete sicuri che c'è. Sì, lunedì pomeriggio dovrebbe sempre esserci. Ecco, però è così. Nedi sera, mentre tornate a casa, ascoltatevelo, va bene, facciamo così. Altre progetti che avete magari in ballo nel gruppo Novate Podcast Lab? Abbiamo in ballo di appunto di aprire questa radio sempre avanti, quindi il podcast appunto per registrare, diciamo, e provare a dare in diretta tutti gli eventi, diciamo, le presentazioni di libri, per esempio, tutte le iniziative che il circolo fa e poi abbiamo in realtà in ballo una serie di podcast che vorremmo fare perché il gruppo, e ci siamo uniti anche a un gruppo podcast di bollate che adesso ci viene a registrare anche lui lì. In doppio Ate anche qui. in doppio Ate anche qui. Va bene, Valeria, grazie mille davvero di essere qui con noi, portate saluti, salutate a tutti quanti nel gruppo. Sì, tutta la mattina vado avanti così, saranno contenti in redazione. Grazie mille davvero. Grazie mille a Valeria Le Paoli, salutaci anche l'altra Vale, la Valentina, che appunto fa con te notiziate e saluta tutto il gruppo appunto di Novate Podcast Lab. Grazie. Cercateli, seguiteli perché sono quelle cose belle che ci piace seguire e che vengono fatte da queste parti. E adesso, musica Katy Perry a Kiss the Girl e poi torniamo qui con la sigla finale. Grazie mille a tutti.